buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale io sono i w2 fnd lucio ed oggi vi parlo dell'effetto pelle e dell'effetto di prossimità perché sono i fenomeni che affliggono tutti i nostri conduttori e quindi se vogliamo combatterli bisogna conoscerli meglio ma iniziamo subito per comprendere l'effetto pelle e l'effetto di prossimità occorre conoscere la distribuzione dell'induzione magnetica all'interno e all'esterno dei conduttori se avete capito bene l'induzione è presente anche all'interno dei conduttori qui in figura vedete rappresentato un conduttore di rame visto in sezione trasversale l'induzione magnetica a linee di forza circolari attorno al centro del conduttore a causa della simmetria sia all'interno che all'esterno del conduttore la loro intensità cresce linearmente mano a mano che ci si allontana dal centro del conduttore fino al suo massimo che si trova sulla superficie del conduttore all'esterno l'intensità decresce con l'inverso della distanza dal centro nell'immagine vedete la distribuzione dell'intensità dell'induzione magnetica in un conduttore di 2,6 mm di diametro percorso dalla corrente di un ampere entrate nel foglio in questa seconda immagine vediamo rappresentata in blu l'induzione magnetica presente all'interno del conduttore se la corrente che la genera questa qui è sinusoidale o più in generale variabile nel tempo all'interno del conduttore si induce una forza elettromotrice che produce un vortice di corrente detto heavy current o corrente di Foucault il vortice di corrente a sua volta genera un campo magnetico che si oppone alla causa che l'ha generato in conformità alla legge di Faraday Neumann Lenz in figura la corrente indotta è raffigurata dalle linee nere queste qui la corrente principale sempre questa nel centro del conduttore si troverà la corrente indotta contraria al suo flusso e favorevole al suo flusso verso la pelle del conduttore la pelle in inglese si dice skin complessivamente però la corrente totale è sempre la stessa ma la sua densità aumenterà molto verso la superficie del conduttore e diminuisce sempre più verso il centro da ciò deriva il nome effetto pelle quindi nelle vicinanze della pelle del conduttore si concentra la maggior parte della corrente e diminuisce esponenzialmente mano a mano che ci si avvicina al centro del conduttore alla distanza delta la densità di corrente è diminuita del 37 per cento che è una percentuale che rende semplici i calcoli la distanza delta è detta profondità di penetrazione in inglese skin death e dipende dalla frequenza dalla permeabilità magnetica e dalla conducibilità del materiale conduttore di conseguenza la resistenza del filo è espressa da questa formula qui resistenza in ohm la frequenza in hertz la resistività del materiale in nano ohm per metro l è la lunghezza del conduttore ed i è il diametro entrambi nella stessa unità di misura qui in metri per i fili di rame la formula diventa questa qua dove l è la lunghezza del conduttore d è il suo diametro entrambi espressi nella stessa unità di misura come si può notare la resistenza aumenta con la radice quadrata della frequenza se non volete fare calcoli trovate un ottimo calcolatore su e magnetica vi lascio il link in descrizione dalla teoria ricaviamo alcuni spunti pratici per minimizzare l'effetto pelle nelle nostre realizzazioni il primo spunto è quello di utilizzare dei conduttori multitrefolo isolati tra loro e ritorti in modo da formare una corda qui in figura vedete 7 trefoli questa tecnica è efficace fino a qualche centinaio di kilohertz oltre si comporta come un conduttore pieno senza dare alcun vantaggio tant'è che il conduttore centrale talvolta viene sostituito con un cavetto d'acciaio per aumentare la tenuta del filo alla trazione il secondo spunto è quello di utilizzare dei conduttori con tantissimi trefoli isolati tra loro questi fili sono chiamati fili litz ma anche questi fili sono efficaci fino a circa 3 megahertz oltre l'effetto pelle si fa sentire ugualmente e quindi non convengono più anche perché sono piuttosto costosi il terzo spunto è quello di placare con l'argento il conduttore di rame in modo da far scorrere la maggior parte della corrente in uno strato di pelle più conduttivo la placatura è efficace finché l'argento non si ossida col solfuro d'argento che è quella patina nera che vediamo infatti il solfuro d'argento è un cattivo conduttore per inciso i conduttori di rame invece hanno l'ossido conduttivo per cui da ossidati sono meglio di quelli placati d'argento ricoperti del suo ossido come vedete non abbiamo molte chance il metodo migliore per minimizzare l'effetto pelle sembra essere quello di utilizzare fili di rame con sezione più grande l'effetto di prossimità è molto simile a quello che genera l'effetto pelle ma l'effetto si manifesta nei conduttori vicini in figura vedete in blu l'induzione magnetica generata dalla corrente che circola nel conduttore 2 le cui linee di forza circolari penetrano nel conduttore 1 questo qua e la loro intensità decresce con l'inverso della distanza dal centro del conduttore 2 la forza elettromotrice indotta nel conduttore 1 produce il solito vortice di corrente in figura rappresentato con queste linee nere se le correnti nei due conduttori sono equiverse cioè sono concordi la corrente principale che scorre nel conduttore 1 si troverà quella indotta contraria nelle vicinanze del conduttore 2 mentre sarà favorevole lontano dal conduttore 2 di conseguenza calerà da una parte ed aumenterà dall'altra quindi la densità di corrente in un conduttore risente delle correnti che scorrono nei conduttori vicini per questo motivo si chiama effetto di prossimità in inglese proximity effect in definitiva l'effetto di prossimità riduce ulteriormente l'area dove circola la corrente peraltro già ridotta dall'effetto pelle in figura vedete come si disloca la densità di corrente quando i conduttori sono percorsi da correnti concordi e da correnti discordi per minimizzare l'effetto di prossimità possiamo distanziare tra loro i conduttori ma non sempre possibile possiamo non stratificare gli avvolgimenti ma anche questo non sempre si può fare possiamo utilizzare conduttori di sezione rettangolare cioè quelli piatti in modo che il perimetro del conduttore sia più grande di quello circolare ma questi conduttori non sono comuni e sono anche difficili da trovare infine possiamo alternare per quanto possibile conduttori percorsi da corrente concorde con conduttori percorsi da corrente discorde in modo da mitigare l'effetto di prossimità è il caso dei trasformatori in cui si alternano spire di primario a spire di secondario ma nelle induttanze e nelle trappole non si può fare l'effetto di prossimità si misura col parametro k che esprime il rapporto tra la resistenza in alternata e la resistenza in continua in figura vedete le curve di dowel dove in ordinata c'è il parametro c'è il parametro k e in ascissa c'è il rapporto tra il diametro del filo e lo scheme death che come abbiamo detto dipende dalla radice quadrata della frequenza le curve sono colorate in funzione degli strati interessanti sono la traccia grigia che rappresenta il solo effetto pelle la traccia blu che rappresenta l'avvolgimento con un solo strato e la traccia viola che rappresenta l'avvolgimento alternato primario secondario sempre su e magnetica trovate un ottimo calcolatore del parametro k vi lascio il link in descrizione per farvi vedere l'effetto pelle ho preparato questo esperimento qui vedete una di quelle molle giocattolo in acciaio distesa su un manico di scopa per circa 80 centimetri in modo che le spire siano abbastanza lontane tra loro per minimizzare l'effetto di prossimità dietro ho dovuto mettere un telo scenografico per aumentare il contrasto tra il primo piano e lo sfondo qui sotto vedete il mio lcr meter che misura a 100 hertz una resistenza di 2,350 ohm la reattanza non ci interessa l'esperimento consiste nel misurare al variare della frequenza la resistenza della molla e di verificare se l'aumento è proporzionale alla radice della frequenza per cui segniamo sul taccuino in corrispondenza di 100 hertz 2,350 ohm ora aumentiamo la frequenza 500 hertz 2352 1000 hertz 2356 2000 hertz 2372 5 kilohertz 2471 10 kilohertz 2772 20 kilohertz 3538 50 kilohertz 5,386 100 kilohertz 7,515 ora per vedere l'effetto di prossimità collassiamo la molla alla sua lunghezza minima circa 7 centimetri e vediamo di quanto aumenta la resistenza a 100 kilohertz leggiamo 21.513 ohm come potete vedere l'aumento è rilevante pensate un po cosa accade alle nostre frequenze ho disegnato i grafici delle resistenze misurate con l'LCR meter alle varie frequenze dove è evidente il consistente aumento della resistenza quando la molla è collassata per effetto di prossimità curva gialla ho anche tracciato col tratteggio rosso la curva radice di f dove è evidente la sovrapposizione con la curva blu che riporta l'effetto l'effetto pelle in conclusione abbiamo visto che l'effetto di prossimità è molto più dannoso dell'effetto pelle immaginate cosa può succedere alle nostre frequenze quindi dovremo adottare tutte le precauzioni possibili per poterli minimizzare entrambi anche questo video termina qui se vi è piaciuto o vi è stato utile mettete un bel like ed iscrivetevi al canale così mi date una mano ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video alle prossime ciao